A Taranto un 25 aprile scandito dal rombo delle motociclette del motoclub Motor Day, associazione ricreativa e culturale composta in maggioranza da appartenenti all'arma dei carabinieri, delle forze dell'ordine, delle forze armate e di tanti simpatizzanti. Un moto incontro a Taranto per il giubileo del motociclista, occasione per visitare la città vecchia ma soprattutto una tappa importante presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La nostra prerogativa è quella di fare donazione, di fare beneficenza, è l'articolo 1 del nostro regolamento. In questo caso abbiamo scelto Taranto, stiamo donando una smart tv da 65 pollici, lavagna interattiva che i bambini del reparto oncoematologico pediatrico della Santissima Annunziata possono non solo usarla come intrattenimento ma anche come studio perché la didattica può essere fatta anche in maniera digitale. Anche in questo 25 aprile è un pensiero speciale per i piccoli ospiti del reparto di oncoematologia pediatrica. I bambini di Taranto, dell'oncoematologia pediatrica e della pediatria, ma tutti i bimbi di Taranto, sono nel cuore di tutto il territorio tarantino e pugliese. Oggi ci hanno onorato della presenza tanti amanti del motociclismo, dell'associazione Motoclub Carabinieri. Questo è un gesto simbolico di arrivare qui con le moto, ma c'è stato anche un dono. Grazie, grazie a nome dei bimbi, delle famiglie e dell'ASL tutta. Grazie.